Giricovar una partita difficilissima che avete rischiato anche di perdere dopo essere stato in vantaggio 2-0? Noi abbiamo rischiato di perdere, ma contro una squadra come Modena ci sta, non sono giocatori arrivati ieri, sono giocatori di grandissimo livello, grandissimo spessore e ci sta andare in difficoltà contro una squadra, poi siamo stati bravi nel quinto a vincere la partita Nel terzo e nel quarto, al di là dei meriti di Modena, in cosa si è decalato? Noi in attenzione, forse anche l'attaccamento a ogni punto, ci dava fastidio l'errore, ci dava fastidio quando il compagno sbagliava quindi non deve essere così, dobbiamo sopportarci, dobbiamo giocare insieme, sempre nelle difficoltà, soprattutto solo così si può arrivare da qualche parte